I Paesi del Gusto del Vino mi ha portato ad Azzano Decimo e siamo qui alla fattoria del Principe Guecello proprio per capire perché lui è partito tanti anni fa, circa dieci anni fa, a fare biodiversità, essere un'azienda insomma all'avanguardia e in questo momento noi stiamo parlando di una viticoltura resistente e allora siccome il Principe ha già sperimentato qualcosina in questo senso, se saranno un'alternativa a quella che è l'agricoltura convenzionale? Se ne parla nel nostro ambiente già da qualche tempo, nel caso della mia azienda abbiamo iniziato non tanto questo percorso di sostenibilità solo dieci anni fa, forse abbiamo iniziato a raccontarlo dieci anni fa, per noi l'agricoltura sostenibile è l'unica modalità di praticare le coltivazioni dei propri fondi, significa qualcosa di più che non soltanto ridurre i trattamenti, significa soprattutto cercare anche una vocazionalità del terreno e spesso le varietà che sono state piantate in terreni non adatti hanno bisogno di molti più trattamenti e è un po' questo il piccolo scandalo che c'è stato nel nostro mondo. Più trattamenti, più costi. Bisogna trovare terreni molto arieggiati, possibilmente alti, dove non c'è ristagno idrico, i vitigni resistenti possono essere una risposta ed è giusto che la ricerca vada avanti in questo senso, è importante anche che non si perda però quello che è una tradizione di qualità, i vitigni resistenti sono resistenti e sono interessanti perché servono meno trattamenti non hanno ancora probabilmente trovato una natura specifica proprio dal punto di vista del gusto, per cui sono ancora degli ibridi. Bisognerebbe trovare le varietà tradizionali resistenti. L'allarme è arrivato dall'esportazione, cioè il nostro vino che tirava in questi ultimi dieci anni sempre in doppia cifra e quest'anno siamo messi male nel primo semestre. Aspettiamo di finire il secondo, certamente bisogna guardare anche altri mercati, in particolare l'Asia, dove c'è molto da raccontare e molto da fare ancora, quindi non sono negativo in questo senso. In Germania e negli Stati Uniti? Sono mercati maturi, in particolare quello tedesco, negli Stati Uniti penso che ci sia ancora molto da fare perché non sono i grandi capitali degli Stati Uniti ma ci sono tanti stati, una popolazione molto grande che guarda sempre con più interesse al vino italiano. Le chiedo qualche novità per il 2019, visto che noi siamo già inoltrati nel 2019. Il vino è un settore tradizionale per cui si può innovare, soprattutto nella tecnologia che serve per ottenere al meglio i prodotti. Noi per esempio abbiamo quest'anno acquistato due atomizzatori a recupero, questo proprio in linea con quanto dicevamo prima sulla sostenibilità e sul fatto che ci deve essere il minor consumo possibile di antitrogramici in campagna.